Buongiorno, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con Face2Face, oggi parliamo di normativa e con noi per parlare di normativa abbiamo invitato il già presidente FIAIP Paolo Righi e nonché presidente di Confa Associazioni Re. Buongiorno Paolo, buongiorno a te, buongiorno a tutti quanti. Il tema che iniziamo con questa serie di interviste su questo argomento è la riforma del decreto legislativo 141 del 2010 che ormai ha sulle spalle 24 anni di onorata la carriera con 22 anni di entrata in vigore, perché è entrata in vigore nel 2012 con l'istituzione dell'Oam e che in qualche modo ha più volte dimostrato di avere sulle spalle qualche anno di troppo. C'è un'occasione molto ghiotta che è la riforma della direttiva europea sul credito ai consumatori, la CCD2, che lo scorso ottobre è stata pubblicata in gazzetta ufficiale che quindi ha iniziato il suo iter di recepimento nei singoli paesi. Una delle attività dell'associazione di categoria è proprio quella di aiutare il normatore a far sì che questo recepimento sia il più aderente possibile al mercato locale italiano nel nostro caso. A questo punto quale sarà il ruolo delle associazioni di FIIP in particolare proprio per aiutare MEF e governo a trovare questa giusta applicazione? Intanto buongiorno a tutti, buongiorno anche a te, la riforma è quanto mai necessaria, hai detto giusto, hai fatto tutto bene, 24 anni sono passati e tra l'altro mi fai venire in mente che io sono uno dei soci fondatori dell'OAM e quindi è passato tanto tempo e avendo percorso sempre con FIIP il periodo della nascita della legge ti posso dire che già allora e per come è stata poi normata c'erano delle criticità che oggi si sono evidenziate ancora di più. L'associazione, la FIIP in particolare ha un processo interno democratico per cui noi siamo già al lavoro su quelle che dovrebbero per noi essere linee guida che poi saranno votate all'interno dei consigli provinciali, i consigli regionali e del consiglio nazionale FIIP. Quindi tutti i processi normativi che noi seguiamo cercano di, in questo caso il Presidente Baccarini naturalmente, cerchiamo sempre per ogni settore di portarle all'interno di un tavolo molto più ampio perché il pericolo delle associazioni oggi è proprio quello di a volte di non poter rappresentare o di non voler rappresentare una base associativa che oggi ha bisogno di tante novità anche dal punto di vista normativo per adeguarsi a una società che è cambiata. Nel mondo immobiliare sappiamo che ogni associazione ha le sue caratteristiche ma poi quando ci si deve muovere magari per qualche tema importante ci si muove anche tutti assieme cercando di portare l'intero mercato a indirizzare la normativa. Pensi che sia possibile anche questo in campo creditizio? Un po' più complicato perché magari sono più giovani le associazioni? No, il tema è questo. Io spero sempre, auspico, il più ampio coinvolgimento di tutte le associazioni perché l'associazionismo ha la necessità di trovare poi come lo chiediamo alla politica un punto di sintesi e quindi non c'è mai chi vince o chi perde. Però è dovere delle associazioni e lì devono trovare, dobbiamo trovare il punto di incontro, è dovere delle associazioni guardare avanti perché se tu pensi a un cambio normativo e lo espliciti o lo normi su quello che è il mercato attuale fra 24 anni ancora saremo qui a dirci abbiamo sbagliato perché abbiamo fatto una legge già vecchia. E allora la capacità dell'associazione che non è quella dell'imprenditore che molte volte guarda al momento al piano triennale, giustamente voglio dire, la capacità dell'associazione è quella di poter traguardare un certo periodo e di immaginare o capire o comprendere degli scenari che ci saranno fra 10-15 anni. All'uopo spero che questa sia anche l'occasione dove si abbandonino delle posizioni molto nette, se si vuole, è anche un po' luddiste, diciamo, cioè che non guardano a quello che è il futuro della società. Rispetto alla prima direttiva in questa seconda abbiamo un interlocutore nuovo che è l'OAM stesso che darà il suo contributo all'ammodernamento della normativa. Ritieni questo un vantaggio, uno svantaggio oppure una cosa neutra? No, no, assolutamente. Ecco, lo dico da fondatore, diciamo, no? E quindi mi permetto di dire una parola in più, non perché ne abbia i titoli, ma perché penso di conoscere bene quello è il senso e che cos'è l'OA. L'OAM, molti si scordano che è un organismo di vigilanza, che non va tirato per la giacchetta, che non va usato come canale politico, a meno che l'OAM non richieda un'idea, un consenso o delle linee ai propri associati, diciamo, no? E quindi noi pensiamo come FIAE di fare, come abbiamo sempre fatto, il nostro percorso politico sperando in collaborazione con tutte le altre associazioni, trovare dei punti di sintesi e soprattutto consultando anche l'OAM perché deve essere una crescita e una normazione che nasce anche dall'esperienza che hanno. Quindi in questa riforma che, a mio parere, dovrà contenere anche una riforma dell'OAM stesso, perché l'OAM ha dei processi oggi di elezione che non sono compatibili con il momento attuale. è un consiglio d'amministrazione che però deve essere un comitato tecnico, che però deve essere terzo alle parti. Il fatto che le associazioni, siamo noi ad eleggere questa cosa, io ho sempre ringraziato e all'inizio aveva un senso. Però, a mio parere, bisognerebbe ben individuare quelle che sono le caratteristiche dei partecipanti, avere eventualmente un rappresentante del mondo delle aziende datoriale, però deve essere un organo veramente terzo. Perché il tema dell'OAM è quello di accompagnare le aziende in un percorso e l'ha fatto dal 2010 ad oggi. Quindi in 14 anni c'è stato un accompagnamento. Oggi l'OAM deve diventare quello per cui è nato, quindi un organismo di vigilanza, che è detta delle regole che siano certe per tutti. Perché altrimenti, se le regole non sono certe per tutti, cioè non c'è l'applicazione del controllo e della normativa, e quindi uno stretto adeguamento a quelle che sono le norme, è chiaro che c'è un mercato scompensato. Perché chi ha strutture di controllo di un certo tipo, chi non le ha e non cambia niente. Allora invece, ecco, quello dovrebbe essere, discutendone giustamente con i collaboratori e con altri. Quindi una riforma anche dell'OAM e dei processi interni sarebbe ben gradita. Assolutamente. Hai detto giustamente 14 anni, io all'inizio ho detto 24. È più giovane di quanto avresti detto. Sarei già in pensione da mo'. Meno male. Siamo tutti un po' più giovani, meno male. Rispetto, adesso hai elencato un punto importante di ammodernamento, ma quali altri punti potrebbero essere toccati da questa riforma per renderla più attuale, più moderna? Guarda, non voglio anticipare nulla per non creare scompensi a quelli che verranno dopo di me. Però sicuramente ci sono… Beh, però il mercato lo conosci bene. No, ma ci sono… No, ma noi stiamo lavorando su temi su cui penso saremo tutti d'accordo, che è quello dell'ampliamento dei prodotti. C'è oggi un collaboratore del credito che è un imprenditore. Noi scordiamoci un po', un attimo la 141. Le società di mediazione creditizia sono dei service dettati dalla legge. Gli imprenditori che ci sono, non sotto, ma a fianco e a volte anche sopra, sono gli imprenditori che hanno bisogno di strumenti e di fare fatturato, come tutti gli imprenditori. Allora, è chiaro che non è possibile che noi collaboratori facciamo mutuo e poi casomai non può proporre l'apertura di un conto corrente. Certo. Oppure non può proporre una carta di credito. Oppure non possa proporre altri tipi di prodotti, che non siano naturalmente quelli di investimento finanziario, ma tutto il resto lo deve poter fare. Deve poter collaborare anche con altre figure della filiera. Perché è la rete, ci insegnano, no? È la rete che oggi fa il mercato. Certo. E d'altronde, senza andare nello specifico, se un utente oggi va su un portale, qualsiasi portale, qualsiasi piattaforma, può acquistare dall'automobile al mutuo. Non vedo perché una norma e degli imprenditori, che spero siano illuminati, che appoggino quello che fanno le associazioni, non possano questi collaboratori del credito, che sono anch'essi imprenditori, riproporre all'interno, se lo vogliono, dei propri uffici, un modello di multidisciplinarità, che seppur è difficile, perché ci vogliono varie professionalità, deve replicare quello che è il mercato attuale e soprattutto futuro. Perché se mettiamo al centro il consumatore, come dicono tutti gli imprenditori, se il consumatore online trova un modello di servizio che non è di alta consulenza, che non è di questo, che non è di quest'altro, ma vai in un ufficio e non trova gli stessi modelli, casomai un pochino meno veloci, e qui compensi con l'alta consulenza, ma se non trovi lo stesso modello di service, e quindi un'ampia gamma di prodotti, è chiaro che il consumatore, i consumatori come noi, saranno ancora affezionati, ma man mano che andremo a scalare con l'età, le nuove generazioni, è chiaro che si rivolgeranno a un altro modello. Certo, ma hai detto al punto le piattaforme, anche probabilmente un riferimento un po' più chiaro su quel modello di business, la norma forse dovrebbe averlo, visto che in questa di fatto è stata adattata, ma non c'era un riferimento preciso. No, ma assolutamente, qui c'è chi vende lead, chi non vende lead, chi prende i dati degli agenti immobiliari solo perché è proprietario di un portale, e poi li va a cercare, ci sono tutto un mondo che ripeto, nessuno fa niente di male, perché il mercato è quello, dobbiamo solo metterci d'accordo. Se vogliamo replicare a livello normativo quello che già il mercato esprime e che è vietato dalla legge, e io sono d'accordo perché il mercato business is business, però dobbiamo dare tutti la possibilità di fare lo stesso, la possibilità di farlo, non dico di doverlo fare, ma la possibilità di farlo, perché vedete il tema è questo, se io sono in un mercato competitivo, competitivo, oggi, che per il 75% è ancora un mercato fisico, me la cavo, ma se io ho rete fisica, non parlo delle società, io parlo sempre dei collaboratori, ma se io sono un collaboratore, e mi immagino fra 5-10 anni, la tecnologia c'è già per fare tutto, dipende quando decideranno le mayor, diciamo, di fare queste cose, allora se fra tre anni il modello sarà quello dell'assistente con consulente con l'intelligenza artificiale, è chiaro che le reti saranno in difficoltà, e se le associazioni non lavorano anche in questa normativa, per permettere ai collaboratori di avere più potere e più offerta per i propri clienti, è chiaro che avremmo perso, poi la rete fisica ci sarà sempre, ma un tema è chi è il dominus, perché se io sono il collaboratore, oggi il collaboratore è il dominus, quindi può, ma se diventa la piattaforma il dominus, è chiaro che in un rapporto di forza ed economico, i collaboratori fra 10 anni, invece di prendere X, prenderanno tanto meno. In conclusione, ricordando il precedente presidente Antonio Cardricalà, un suo cavallo di battaglia era quello della riforma della categoria di agenti e mediatori, per creare un'unica figura e superare il monomandato, è ancora attuale questo argomento? Sì, no, forse? Beh, intanto mi fa piacere che tu abbia ricordato il presidente Catricalà, che sai, era un caro amico e tutti gli anni facciamo il premio Catricalà insieme anche al direttore di Milano Finanze e altre realtà, e quindi come FIAIP è bello ricordarlo. Sì, Antonio me ne parlò subito, lui è stato un precursore, un visionario, perché riusciva a vedere i modelli economici e gli sviluppi socio-economici con 10, 15, 20 anni di anticipo. Io non so se siamo pronti per togliere le incompatibilità, noi l'abbiamo già fatto come FIAIP tra agenti immobiliari e consulenti del credito, collaboratori e così via, e se visto che il mercato non è morto, nessuno è andato in galera, gli agenti immobiliari non si sono approfittati, tutto quello che si era paventato. E penso che la strada sarà là, sarà là nell'eliminazione completa dell'incompatibilità, ma con una responsabilità forte del consulente del credito, del collaboratore delle stesse società, perché le società anche qui nella riforma le responsabilità andranno poi suddivise, perché se tu dai più potere al collaboratore deve avere anche lui le stesse responsabilità, però se non lo faremo noi lo farà il mercato, quindi anche qui spero che si ragionerà anche in un percorso a tappe e così via, perché l'incompatibilità è bloccante, ma se invece si permettono, pur mantenendo le incompatibilità, perché ci saranno forze contrarie e va rispettato l'esigenza di tutti, però permettere la collaborazione tra le varie figure, le varie reti è fondamentale. Anche perché come dice Dei, il mercato insegna e sappiamo che in campo assicurativo questo mercato funziona. Ma tanto poi il mercato e l'economia è come l'acqua, dove c'è uno spazio si infila, quindi non è che possiamo pensare di non mettere in campo modelli normativi che non fanno altro che replicare quello che c'è già sul territorio. E per questo che io parlo e parlavo prima nella riforma dell'OAM, di una necessità di un controllo che sia un controllo e che renda le aziende più responsabili e pari tra loro, perché altrimenti si fa dumping anche legislativo. Quindi io penso che questo sarà uno dei temi, non so se ancora c'è la maturità per pensare questa cosa, però è chiaro che poi dovremmo pensare anche a una forma di segnalazione, a una forma di segnalazione che però non deve vedere come vuole qualcuno la segnalazione di una volta, deve vedere il segnalatore all'interno di un percorso normativo. perché allora se mettiamo la segnalazione come qualcuno se l'è immaginata anche ultimamente, allora cancelliamo la 141 e ritorniamo, ma l'Europa non ce lo fa fare. E quindi abbiamo bisogno di un forte contributo delle associazioni, ripeto, non delle società, le società devono dare dei consigli, ma sono le associazioni che devono cercare di immaginare questa economia del futuro. Noi come FIAIP siamo anche proprietari di una società di mediazione creditizia e infatti quando abbiamo tolto l'incompatibilità alcuni collaboratori sono andati via perché dicono oddio succederà, voi date spazio più agli agenti immobiliari, voi date spazio e si è venuta la guerra tra agenti immobiliari, chi doveva e chi comanderà in futuro. È il mercato che comanda e infatti oggi non comandano né gli agenti immobiliari né i collaboratori del credito, comandano e comanderanno sempre le piattaforme, quello sì. Quindi mi auguro che tutte le associazioni siano pronte a ragionare insieme per fare una riforma che porti il testo normativo all'attualità ma soprattutto al futuro. Bene, benissimo, grazie Paolo. Ricordo che questa norma comunque dovrà prendere forma entro novembre del prossimo anno, quindi abbiamo sicuramente un anno caldo sotto questo punto di vista che ci aspetta e magari ci rincontreremo durante il tragitto legislativo per vedere se qualcosa è stato recepito, se c'è qualcosa di nuovo. Sempre a disposizione. Grazie e a presto. Arrivederci a tutti.